Giovedì scorso in Via Micca si è svolta la presentazione ufficiale di Coscienza Democratica, la nuova lista civica alleata del Partito Democratico. Insieme a Saronno Benecomune, Coscienza Democratica appoggerà la candidatura a sindaco di Francesco Licata. Vediamo il servizio. Antonio Barba, Gigi Bifi. La lista si chiama Coscienza Democratica per Saronno, perché noi vogliamo lavorare per Saronno. Non è contro né a favore di qualcuno, per Saronno. Ho partecipato e partecipo, assieme a Gigi e assieme anche ad altre persone, alla stesura del programma che il sindaco Licata prospetterà per la sua attività di sindaco. Se non si fa la squadra, purtroppo i problemi non si risolvono. La città è piena, è viva e ha bisogno di cambiare. Ma come si può cambiare se ritroviamo gli stessi personaggi da 20 anni, da 30 anni a questa parte? È giusto, ci vuole l'esperienza, ma ci vuole l'innovazione. L'innovazione viene rappresentata dai giovani. Bisogna lavorare per creare. Le idee ce l'hanno i giovani, ma ce l'hanno anche le persone attempate. Io ho coscienza, noi abbiamo coscienza, ognuno di noi ha la sua coscienza democratica, perché cosa? Per la nostra città.